La sicurezza informatica era compito degli esperti, dei tecnici, ma erano i tempi in cui tutta la tecnologia dell'informazione era nei centri di calcolo. Oggi l'information technology pervade l'azienda, è dentro l'azienda, quindi occuparsi non tanto della sicurezza ma della continuità di funzionamento dei sistemi informativi non è più un compito da informatici, o meglio non solo da informatici, ma è un compito che deve guardare alla vita, all'esistenza dell'azienda. Non avere l'email, non avere la presenza in rete significa non essere in contatto con il mercato. D'altra parte i manager si sono da sempre occupati di cose apparentemente fuori dalla loro portata, le assicurazioni, gli antifurti, gli incendi, sono compiti e responsabilità precise indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, anche se uno è l'amministratore delegato di una piccola SRL, il suo grado di responsabilità è assolutamente lo stesso. Diciamo che si pensava di poterne fare a meno, perché già di incombenze ce ne sono tante, si pensava di poter delegare a degli esperti questa materia. Non è più così, non è più così perché è davvero un cambiamento epocale, è una straordinaria opportunità e serve proprio la visione, la capacità del manager che riesca anche ad aiutare i tecnici a capire che il loro compito è molto più grande di quanto non fosse dieci o vent'anni fa. Questa è la grande sfida, che tra l'altro ci riguarda tutti come cittadini, come persone, perché se è vero che la tecnologia dell'informazione pervade l'azienda, i suoi rapporti, pervade anche la nostra vita, quindi l'information technology è nelle nostre case, nelle nostre tasche, nei telefoni che non sono più dei telefoni ma sono dei computer e non è solo questione di evitare le intrusioni virus, che pure è un problema, ma dobbiamo pensare che il compito numero uno è garantire la continuità di funzionamento, avere la possibilità per l'azienda di dialogare con il mercato e per noi esseri umani di stare in contatto con gli altri, di usufruire dei servizi e in fondo di vivere la nostra vita sociale.